Salve, benvenuti in questa edizione del TG1. Diamo la linea ad Ambrogio per la prima notizia. Allora, signor Paolo, lei si trovava al parco quando è stato aggredito? Ah sì, ero al parco, quando proprio... Ah ah, sono stato io l'aggressore. No! Sì, ah ah ah. Oh no, povero Ambrogio! Ops, colleghiamoci sul luogo del delitto per ricevere gli ultimi aggiornamenti sull'accaduto. Ciao Mario, in questo momento Pino il dottorino sta visitando Ambrogio. Chiediamoli cosa gli è accaduto. In poche parole non ne vuole più sapere niente di vivere. Guardate. Questo è tutto per il momento, do la linea allo studio. Grazie per la linea, ma io me ne vado. Tu adesso non vai da nessuna parte. Ah no, beccati questo. Bravissimo. Oh, grazie mille. Era solo un gioco da ragazzi.